Di tutte le misure contenute nel decreto rilancio, quello del bonus bici e monopattini è quello che ha acceso maggiormente, anche con toni sarcastici, il dibattito politico tra opposizione e maggioranza. Tralasciando l'opportunità o la proprietezza di questa iniziativa post-covid, in mezzo però ci sono i cittadini e gli operatori commerciali che, al di là di essere certi che il bonus esiste, altro non sanno. Il bonus è un contributo per un ammontare di massimo 500 euro che copre fino al 60% della spesa sostenuta per comprare un mezzo di mobilità sostenibile. L'articolo 33 del decreto specifica che è valido per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a proporzione prevalentemente elettrica, tra cui anche monopattini, hoverboard e segue e mezzi di mobilità condivisa. Possono essere acquistati anche veicoli usati. Ma sulle procedure, chi, come e quando farlo, c'è molto disorientamento, specialmente tra i commercianti del settore. Noi ad oggi come categorie negozianti non sappiamo niente, al che un po' di domande ce le siamo fatti, perché abbiamo letto che nella fase 2 il negoziante si deve accollare il bonus. Un attimo ti fa pensare, dopo due mesi di fermo siamo ripartiti, le difficoltà che ci sono, ora dobbiamo anche subirci di accollare questo bonus. Un attimo ti mette un po' nei pensieri, anche perché non sappiamo niente, quindi non sappiamo come fare, come aderire, quando ce li daranno, se ce li daranno. Al che ho iniziato un po' ad indagare. Gli ho scritto esattamente, dopo un minuto mi ha risposto, ma era meglio che non mi rispondeva, perché sono rimasto alquanto scioccato, perché qui è l'email, infatti ho anche nero su bianco perché non voglio andarmi a dare una zappa tra i piedi da solo. Quindi su questo bonus ci sono dei chiarimenti non molto chiari ancora. Se un negoziante non aderisce alla fase 2, quindi se un negoziante non ha voglia di far da banca allo Stato, di anticipare dei soldi, tutti i clienti che hanno acquistato la bici possono richiedere il bonus? No. Su nero su bianco, ma risposto di no. Chi inserisce prima la pratica avrà diritto a questo bonus. Oggi ho anche letto che adesso questa procedura la vogliono togliere, ma vogliono mettere ed inserire la data di fatturazione. Cosa peggio che peggio, perché ancora ci sono persone che veramente necessitano di questo bonus per andare a lavorare, che devono avere la cassa integrazione. Se in un giorno, nella seconda fase, vengono richiesti più bonus rispetto al plafonne. La domanda è, noi negozianti c'è la possibilità che non veniamo rimborsati? La risposta è sì, possibile. Una volta finiti i 120 milioni di euro, ciao. Quello che voglio dire al cittadino, se per caso il bonus non riesci a prenderlo, non arrabbiarti con il negoziante. A meno che non ha fatto il furbetto e ti ha detto compra la bici e prenderà il bonus. Poi, se da qui a quando aprirà il sito, cambierà qualcosa e lo spiro. Poi lo vedremo.